In questo spazio così familiare avvengono tante attività del vivere quotidiano, a partire, crediamo, dalla più importante ed essenziale, incontrarsi. Oggi questo incontrarsi si apre e si estende ulteriormente a noi, amiche e abitanti di questo bellissimo paese, e all'incontro con Dio nella preghiera. Per quanto sia impossibile definire cosa sia la preghiera, ne lo vorremmo fare? Certamente essa desidera e agisce per incontrare.